Qui vi presentiamo le 5 migliori scarpe da neve uomo. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Kamik K-Stoneg, stivali da neve uomo. È uno stivale invernale foderato resistente all'acqua comportata con fort fino a meno 40 ciloscafo in gomma nera, attaccato alla suola e anche tomaia in pelle nera e anche Gore-Tex, garantisce un'infermeabilità ottimale per lavorare fuori casa come spalare il vialetto dopo una notte di una grande tempesta di neve. Grazie al singolo hypergrip molto profilato è possibile procedere su qualsiasi terreno con neve, ghiaccio o fango. La struttura interna è tenuta a tenuta d'acqua con isolamento caldo antibatterico e anche rimovibili 3M tinsulate. Passando al numero 4. Kamikho Patriot 5, stivali da neve uomo. Qualunque sia il tempo, con questi scarponi da neve non avrai problemi ad uscire. Questi scarponi da neve invernali sono adatti per lavorare fuori casa in condizioni meteorologiche estreme e anche per tirare su e anche giù il capitale con i giovani sulla slitta tutto il tempo. Tutti i prodotti e le cuciture sono particolarmente trattati per garantire l'umidità e mantenere i piedi totalmente asciutti tutto il tempo. Costruzione interna a prova di perdite con accogliente e isolamento tinsulate 3M. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Timberland FTP e Kilburn Premium WP. È un modello perfetto per andare in un mese invernale camminando o semplicemente passeggiando sulla neve quando si lascia l'auto e sono chiamati stivali robusti, impermeabili e ben schermati. Progettati con un design moderno e anche appariscente, mantengono i piedi accoglienti e completamente asciutti per tutto il periodo. Il piano completo in pelle impermeabile è cucito alla base con un materiale artificiale che aumenta le sue capacità isolanti. Uno strato di membrana interno resistente all'acqua mantiene i piedi completamente asciutti e facilmente in qualsiasi tipo di condizione climatica. Il colletto imbottito assicura un comfort eccezionale. La suola in gomma è realizzata con gomma riciclata al 34% e utilizza resilienza e aderenza su qualsiasi superficie, con assistenza ammortizzata. Almost at the top of our list at number 2. Sorel Karibou WL, scarpone invernale uomo. Sono un robusto tuttofare per temperature davvero basse. WL Stap Wallen Wallen in inglese che è il prodotto del tempo di neve e anche inverno. Il design è una variante contemporanea del classico Karibou, con una tomaia impermeabile in pelle naturale pieno fiore e calzature interne rimovibili da 9 mm in feltro di lana 60% cotone 40% che mantiene il piede accogliente. La telle naturale è su misura su un goscio di gomma vulcanizzato, tipico delle scarpe Sorel, che assicura un'eccellente impermeabilizzazione. La suola è inoltre in gomma e costruita anche con il sistema Aerotrack che evita l'accumulo di stress sul piede. La versione Laceab, esaminata per resistere fino a meno 40C, offriva quanto la dimensione 49. E infine il numero 1 della nostra lista. Sorel Karibou, stivali da neve uomo. Questa versione, in colore nero, è uno stivale pesante creato con una tomaia in pelle Nobook impermeabile. Include giunti termosamente sigillati su un guscio di gomma vulcanizzato e impermeabile che copre l'intero componente ridotto della parte superiore, dalla dita dei piedi al tallone. La suola in gomma è strutturata con il sistema Aerotrack con marchio Aerotrack che protegge dall'accumulo di pressione sul piede e offre una presa superba su qualsiasi tipo di superficie. Ha uno stivale interno rimovibile in termo plus e riciclato davvero feltro che garantisce calore, praticità e anche sicurezza dal fresco e anche dall'umidità dell'ambiente dei mesi invernali. Versione Lace Up, con lembi interni in pile, altezza gamba 24,5 cm, valutata fino a meno 40C per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.